Ok ragazzi, nuovo video, oggi parleremo di quante calorie raggiungere alla fine di una fase di bulka quante calorie possiamo spingerci ti cerco a farlo perché negli ultimi video c'è stata un po' di confusione in merito a qualcuno non tornavano i conti, ad altri tornavano e vedo che c'è da una parte un po' di confusione, dall'altra un po' di timore ancora nel rendersi conto realmente cosa dobbiamo fare per massimizzare una fase di bulka che appunto si può concretamente arrivare quindi vale la pena affrontare questo argomento e oggi lo vedremo Ora tutto quello che dirò, e questo ci tengo a permettervelo, quindi segnatevelo non può prescindere da tre punti fondamentali il primo punto è che qualsiasi scelta voi facciate in una fase di bulka a livello alimentare qualsiasi punto raggiungiate, qualsiasi soglia a livello calorico non potete non tenere sempre ottimizzati salute, digestione e assorbimento dei nutrienti ossia la salute, logicamente, quindi salute cardiovascolare, salute endoteliale, pressione arteriosa devono sempre essere nei range ottimali stesso per l'ABF, sensibilità insulinica, tutti questi fattori qua devono essere monitorati e mantenuti nei range la digestione deve essere ottimale, così come anche l'assorbimento dei nutrienti se così non è, non va la pena aumentare ulteriormente le calorie non ha assolutamente senso, quindi tutto quello che diremo si basa su questi tre fattori massimizzati ok? Ottimizzati il secondo punto è che l'alimentazione è e rimarrà sempre funzionale all'allenamento quindi ok spingere in bulka, ok salire, ok strategie alimentari ma sono subordinate a quello che facciamo in allenamento ossia sono funzionali a rendere di più in allenamento in questo modo poi causiamo quello stimolo di adattamento ipertrofico ok? Quindi l'alimentazione è sempre funzionale e subordinata all'allenamento non può prescindere dallo stesso e l'ultimo punto quindi è che qualsiasi scelta, qualsiasi cosa che diremo qua non deve essere fatta per partito preso ogni persona ha un caso a sé, bisogna ragionare su come questa persona risponde su come questa persona si muove quindi quello che vi dirò si basa più che altro su quello che è un'osservazione empirica di quelli che sono i livelli a cui si arriva alla fine di una fase di bulka che sono realmente necessari per massimizzare la crescita muscolare il primo fattore è il dispegno energetico dall'allenamento sia allenandoci, stando in sala, avendo una performance in allenamento consumiamo calorie e quindi logicamente dobbiamo star dietro a questo consumo energetico e dal momento in cui la performance aumenta gradualmente nel tempo in una fase di bulka perché solleviamo di più, lo facciamo per più ripetizioni riusciamo a esprimere più effort allora conseguentemente anche l'input calorico che andiamo a dare deve andare ad aumentare nel corso dei mesi ora è difficile dire quanto consuma una sessione di allenamento perché varia tantissimi fattori in primis quante masse muscolari abbiamo che carichi utilizziamo quanto volume facciamo quante ripetizioni quante serie e soprattutto su quali esercizi e soprattutto che distretto stiamo allenando però orientativamente una sessione può andare a consumare dalle 300 calorie fino anche a sopra le 800 calorie quindi capite che il range e la forbice è molto variabile e logicamente man mano che iniziamo ad essere più avanzati queste calorie che consumiamo andranno ad aumentare il secondo punto è collegato all'aumento di peso in bulka normalmente il peso sale e il fatto che il peso salga vuol dire che qualsiasi cosa noi facciamo nel quotidiano spende più energia quindi i 10.000 passi che facciamo a 70 kg non hanno lo stesso impatto di spegno energetico di quando li facciamo a 90-95 kg allo stesso modo il cardio che noi andiamo a fare quella corsetta o quella bike, spin bike eccetera sarà molto diversa se la facciamo di nuovo a 70 kg o a 90-95 kg quindi nel corso della fase di bulka dovremo aumentare gradualmente perché pian piano tutto quello che facciamo ha un maggior dispendio energetico terzo punto fondamentale l'impatto metabolico e questo viene sottovalutato tantissimo quando ci alleniamo noi non abbiamo soltanto una spesa energetica derivante da la mole e diciamo le calorie che consumiamo in allenamento ma abbiamo tutta una fase successiva di adattamento e di ripristino delle omostasi del corpo normalmente un debito di ossigeno un epoch eccetera che porta a consumare ulteriormente calorie quindi in realtà dobbiamo distinguere quello che è il dispegno energetico dell'allenamento che possiamo volendo calcolare andando a inserire ogni variabile da quello che è l'impatto metabolico dell'allenamento stesso che ci porta ad avere un maggior dispendio energetico anche in un periodo fino a 24 ore quindi capite che il rate del consumo calorico va ad aumentare e di nuovo dipende da tantissimi fattori come la performance che abbiamo avuto l'effort che abbiamo impiegato quindi più ci alleniamo intensamente più questo fattore aumenta motivo per il quale gli atleti che si allenano ad alta intensità tendenzialmente tendono a bruciare tantissimo molto di più di atleti che si allenano con un sacco di volume junk volume e spazzatura quindi anche questo è un fattore che dobbiamo tenere in considerazione e l'ultimo punto è il più importante l'omeostasi del nostro corpo il nostro corpo tende sempre a ricercare un'omeostasi un equilibrio quindi più calorie noi gli diamo costantemente più lui attiva tutta una serie di complessi meccanismi ormonali ed enzimatici per farci spendere lo stesso a mole calorica quindi se stiamo a 3.000 calorie lui ha tutto l'interesse a portarci a spendere effettivamente 3.000 calorie al giorno quando saliamo a 3.500 calorie lui ha tutto l'interesse di attivare questi meccanismi per farci spendere 3.500 calorie quando arriviamo a 4.000 calorie lui di nuovo attua tutta una serie di meccanismi per farci arrivare a 4.000 calorie motivo per il quale dei soggetti che tendono ad ingrassare che diventano magari obesi mangiano magari veramente 5.000 calorie al giorno ma non è che ingrassano all'infinito stallano logicamente a un certo livello proprio perché a un certo punto il nostro corpo andrà ad aumentare in maniera veramente importante quello che è il loro dispendio energetico proprio per ricercare un bilanciamento o un'omeostasi il nostro corpo è un grande fan delle omeostasi e andrà a ricercarla sempre questo è il motivo per cui in una fase di bulk dovremo gradualmente andare ad aumentare le calorie altrimenti raggiungiamo una stallo perché a un certo punto semplicemente non siamo più in surplus calorico quindi questo è un fattore molto importante quando si cercano di fare dei calcoli per capire quante calorie possiamo realmente spendere dobbiamo ricordarci che non siamo una bomba calorimetrica siamo un organismo terribilmente inefficiente da un punto di vista termodinamico e più mangiamo più lo diventiamo peraltro non andiamo a bruciare tutti gli alimenti molti non vengono assimilati come si pensa ai polioli, alle fibre all'azoto che andiamo ad espellere delle proteine della catena amminacidica quindi logicamente non possiamo cercare di fare dei calcoli per capire quanto spendiamo ma l'unica cosa che possiamo fare è vedere il trend del peso e nel momento in cui il peso stalla probabilmente stiamo spendendo tanto quanto andiamo ad introdurre fermo restando come abbiamo detto all'inizio che l'assorbimento e la digestione dei nutrienti siano massimizzate ok detto questo cerchiamo di capire come attuare questo aumento calorico è il secondo punto su cui voglio soffermarmi l'aumento calorico deve avere tre principali caratteristiche deve essere graduale deve essere costante e deve essere basato sulla performance ossia funzionale alla nostra performance in allenamento graduale nel senso che dobbiamo aumentare di poco ogni volta non possiamo pensare di aumentare di mille calorie ogni volta che raggiungiamo uno stallo magari aumenteremo di 50 grammi di riso piuttosto che 70 grammi di avena di 10-20 grammi di olio o di 25-30 grammi di burro d'arachidi aumentiamo, vediamo com'è il feedback che abbiamo continuiamo ad aumentare vediamo il feedback, aspettiamo uno stallo eccetera quindi deve essere graduale e deve essere costante costante che cosa vuol dire? che non possiamo pensare di fare un bulk di 2-3 mesi poi scendere e fare cut poi di nuovo un bulk di 2-3 mesi ma una fase di bulk di off-season una fase di costruzione muscolare richiede tanto tempo tanto tempo vuol dire che dovremo passare mesi ma anche anni in costante bulk possiamo inserire dei mini cut per di nuovo far fronte a salute digestione, assorbimento quindi ripristinare un attimo e risensibilizzare tutti i tessuti però il bulk deve durare anni questo è un bulk che ha senso questo è un bulk che sarà efficace e costruirà tessuto gli atleti che gareggiano ad alto livello inseriscono dei bulk di neanche un anno e gareggiano ogni anno più o meno nella stessa data per il semplice fatto che ormai sono arrivati al loro massimo potenziale di crescita e devono lavorare semplicemente sui dettagli quindi non gli serve procrastinare un periodo di bulk per troppo tempo ma devono cercare di aggiustare un dettaglio e poi tornare in condizione gara e poi sono agonisti quindi logicamente vanno ad impregnarsi a gareggiare ogni anno però anche loro nel caso in cui vedono che ci sono determinate carenze che devono andare a curare colmare e che sono abbastanza evidenti sul palco si prendono anche 2-3 anni di stop per poi tornare a gareggiare ancora più pieni quindi deve essere costante la fase di bulk e in ultimo deve basarsi sulla performance o meglio deve essere funzionale alla performance perché non basarsi perché logicamente tutti i fattori che teniamo in considerazione per decidere se aumentare o come muoverci non sono solo la performance dobbiamo vedere anche lo specchio dobbiamo vedere anche come ci sentiamo da un punto di vista digestivo quanto assimiliamo ma è tutto funzionale all'allenamento ossia lo specchio ci dice più o meno quant'è la nostra sensibilità insulinica se siamo ancora in salute e se realmente il tessuto muscolare beneficia di un ulteriore surplus calorico così anche la digestione ci dice se effettivamente stiamo assimilando tutto quindi se le calorie che andiamo ad aggiungere eventualmente sono indirizzate nella performance e quindi essendo indirizzate nella performance amplificano lo stimolo di allenamento amplificano anche il recupero ci permettono di crescere quindi capite che non è l'alimentazione di per sé che fa crescere massa muscolare ma il fatto che sia funzionale ad un aumento di performance e quindi ad un aumento sia dello stimolo che del recupero muscolare e conseguentemente andremo a crescere da un punto di vista ipertrofico benissimo ci ho detto andiamo a capire a che punto possiamo spingerci concretamente perché molte persone sono un po' intimorite da livelli che vedono livelli che raggiungono e tutto il resto e molto spesso vedo che abbiamo due principali problemi per cui le persone non crescono il primo problema è che non mangiano abbastanza nel senso che hanno paura di spingere veramente tanto le calorie per tanto tempo e il secondo problema molto spesso è che mangiano troppo ossia non si accorgono di aver inficiato salute, assimilazione, digestione non riescono a fare il passo indietro ma semplicemente rimangono fissi alle stesse calorie che a questo punto non sono più cioè iniziano a diventare troppe perché semplicemente la sensibilità insulinica l'abbiamo persa il tessuto non è sensibile all'ulteriore crescita di massa muscolare dovrebbero fare un mini cut ma realmente non lo fanno si vedono male rimangono alle stesse calorie e aspettano di iniziare poi una fase di cut quindi queste sono le due ragioni però personalmente il problema è che molte persone hanno paura di ingrassare e tendono a stare molto col freno a mano tirato quando semplicemente curando la performance in allenamento curando molto bene l'allenamento si renderebbero conto che sicuramente ingrasseranno perché fa parte della fase di bulk però realmente andrebbero a costruire tanto tanto tessuto muscolare in più che ci ritroveremmo poi nella fase di definizione allora nei primi anni non dovremmo andare logicamente a spingere tanto in fase di bulk diciamo che il picco che si ottiene sostanzialmente è di 3000-3500 calorie e dico il picco perché ovviamente parliamo della fase finale di un bulk quindi il picco massimo che si raggiunge dopo una fase di bulk e il fatto che parlo di primi anni è proprio perché il bulk che iniziamo quando siamo neofiti e ci approcciamo in palestra è un bulk che dovrebbe durare verosimilmente anni ok? quindi non è un po' di mesi di bulk e poi faccio una definizione al massimo mi vado a dimagrire se sono sovrappeso comunque se il livello di BF è un po' troppo alto non è fisiologico quindi sensibilizzo i tessuti però da là devo affrontare una fase di bulk di nuovo interrotta eventualmente da minicat però una fase di bulk molto lunga e alla fine di questa fase di bulk graduale costante in cui costantemente lavoro sull'allenamento e miglioro normalmente si raggiungono le 3.000-3.500 calorie però ragazzi è molto soggettivo ok? quindi vi sto dando dei numeri che sono veramente molto indicativi quando l'atleta inizia a diventare avanzato e questo è il fatto che manda in crisi molte persone come ho visto si raggiungono nelle fasi finali del bulk dalle 5.000 alle 7.000 calorie ora che cosa vuol dire innanzitutto le fasi finali bulk di nuovo è un picco che si raggiunge in una fase di bulk che dura anni quindi all'interno del mio anno con un graduale costante aumento calorico di minicatti inseriti arrivo a gestire con un'ottima salute con un'ottima digestione un ottimo assorbimento tra le 5.000 e le 7.000 che cosa vuol dire? che ci sono persone che arriveranno a gestire massimo 5.000 calorie persone che salgono massimo a 7.000 calorie o poco di più ok? quindi anche questo è soggettivo non è che tutti arriveremo a 7.000 magari voi nel vostro caso arriverete massimo a raggiungere 5.000 calorie quindi non dovete entrare in crisi oddio Ludo io ho raggiunto massimo 4.000 calorie oddio Ludo io se supero i 4.500 calorie mi sporco e tutto il resto ok calmi stiamo parlando di atleti che si allenano bene da anni per anni e anni e stiamo parlando di un range quindi se voi siete portati per raggiungere massimo 5.000 calorie crescete con efficacia a 5.000 calorie va benissimo così non dovete arrivare a 7.000 ok? quindi tutti sono entrati in crisi con questo 7.000 ma di nuovo sono fattori empirici fatti da osservazioni di miei atleti atleti di molti tecnici e colleghi e molti raggiungono tranquillamente la gestione di 7.000 calorie al giorno di nuovo nella fase finale di bulk da cosa dipende questo range cioè se siamo a 5.000 piuttosto che a 6.000 piuttosto che a 7.000 o poco sotto e poco sopra per carità innanzitutto dal peso logicamente un atleta che pesa tanto tenderà a mangiare di più un atleta che pesa di meno tenderà a mangiare di meno e questo è abbastanza logico in secondo luogo sicuramente se siamo atleti natural o enhanced perché l'atleta enhanced avrà un consumo un dispendio energetico maggiore dovuto in primis a una performance maggiore perché ricordiamo che parliamo di PED performance enhanced drugs quindi droghe farmaci che migliorano enfatizzano la performance quindi nascono con questo fine e così dovrebbero essere utilizzati ma questo è un altro capitolo la giornata come è gestita perché se parliamo di una persona che sta a mille tutto il giorno e fa un lavoro o comunque un'attività molto dispendiosa è un conto se parliamo di una persona che è tendenzialmente sedentaria ovviamente è un altro conto e infine il punto finale è la genetica abbiamo una predisposizione genetica a bruciare di più di meno questo è inevitabile ci sono persone che hanno metabolismi più veloci più affamati e persone che hanno metabolismi un po' più pigri e non c'è un meglio o un peggio sia caro anzi molto spesso in queste fasi chi ha metabolismi molto veloci è in difficoltà perché logicamente deve mangiare veramente veramente tanto e spesso il fatto di non riuscire a mangiare abbastanza è un fattore limitante proprio perché vogliamo assicurare digestione la salute e l'assorbimento e mi trovo con molti ragazzi in cui se aumento ulteriormente le calorie uno di questi fattori tende ad andare a essere inficiato e quindi non aumentiamo stiamo tranquilli e lavoriamo con quel che abbiamo quindi ci sono tutti questi fattori però ciò detto se le vostre calorie sono molto basse durante una fase di bulk rispetto a questi range anche dopo anni che vi allenate bene allora probabilmente e questa è la cosa più probabile non vi state allenando bene non vi state allenando non a sufficienza ma vi state allenando anche tanto forse anche troppo però non state regolando la giusta intensità non state lavorando con il giusto mindset in sala non date la giusta priorità all'allenamento e questo è il motivo molto spesso in cui l'alimentazione semplicemente non è in grado di spingere perché c'è troppo focus sull'alimentazione e non è funzionale all'allenamento questi range che vi sto dando sono range a cui si arriva proprio perché è l'allenamento che li richiede gli adattamenti che il nostro corpo deve attuare e che li richiedono non sono dei range come abbiamo detto che sono fini a se stessi e che devono essere utilizzati come partito preso l'alimentazione sarà sempre funzionale all'allenamento ragazzi qualsiasi domanda qua sotto se volete ovviamente e sarò ben lieto di questo convidivete la vostra esperienza quante calorie arrivate normalmente a che punto vi spingete gli atleti che avete avuto insomma qualsiasi cosa a qualsiasi domanda sarò ben lieto di rispondere e noi ci vediamo al prossimo video e noi ci vediamo